Ciao e bentornati sul mio canale. In questo video vi mostrerò come ho costruito questa capanna di legno che sarà parte integrante del mio prossimo diorama. Prima di iniziare vi ricordo che potete iscrivervi gratuitamente al mio canale e se vorrete cliccando sulla campanella riceverete la notifica ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Bene ma ora iniziamo subito a modellare. Inizio disegnando delle dime che incollo su del cartoncino e che poi ritaglio per formare la sagoma della casa su cui poi incolerò i listelli di balza. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per realizzare le tegole del tetto utilizzo delle strisce di polistilene che ritaglio utilizzando la thermocut. Grazie a tutti. 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 Inizio ora a costruire la piattaforma in legno su cui poggerà la casa. Grazie a tutti. 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 di acrilico nero al tetto in polistirene. Poi proseguirò con il resto del modello colorando la balsa. Poi proseguirò con il resto del mondo. Il resto del mondo. Per costruire la porta d'ingresso utilizzo sempre dei listeri di balsa. Per costruire la porta d'ingresso. Procedo creando qualche effetto di invecchiamento. Inizio aggiungendo un poco di muschio alle tegole del tetto. Per fissarlo utilizzo colla vinilica diluita con acqua. Creo degli effetti di invecchiamento anche sul legno utilizzando queste lavature. Ho disegnato e stampato delle boe e dei salvagente che posizionerò sulla piattaforma e sulle pareti della capanna. Per costruire la porta d'ingresso. Per costruire la porta d'ingresso. Per costruire la porta d'ingresso. Grazie a tutti. A questo punto recupero degli accessori frugando nella mia scorta di oggetti già stampati dove trovo sempre qualcosa che mi può tornare utile. Grazie a tutti. A questo punto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo progetto e al prossimo video. Ciao.